Ciao a tutti, bentornati! Visto che ultimamente ho saltato un po' di video dei preferiti ho saltato il video dei preferiti di luglio, di agosto e siamo già a metà settembre in questo video voglio mostrarvi un po' i prodotti che ho utilizzato di più soprattutto nel periodo estivo quindi parliamo prevalentemente di agosto insomma quando ero in vacanza quest'anno ovviamente ci sono sia prodotti skin care che make up partiamo come sempre dai prodotti skin care più utilizzati allora, parto da questo prodotto qui che è un prodotto di REN ed è un detergente viso l'ho utilizzato dai primi di agosto perché stavo terminando uno di Ofidra questo detergente è particolare in quanto ha una tripla fase cioè nel senso si presenta come un gel che poi diventa olioso sulle mani e con l'acqua diventa una schiuma in realtà non ho mai provato questa tipologia di detergenti ho sempre utilizzato il classico detergente schiumoso tipo gelatinoso questo qui si presenta in maniera un po' diversa devo dire che inizialmente non avevo quella parvenza di viso molto pulito quando lo utilizzavo in realtà adesso più lo utilizzo e più mi piace in primis perché lo trovo molto delicato e sapete quanto io ci tenga ai detergenti delicati proprio perché odio quei detergenti che mi vanno ad irritare tantissimo la pelle questo qui in realtà è molto molto delicato ha questa consistenza visto così sembra un classico detergente non so se si vede che poi miscelato con il riscaldandolo tra le dita sembra molto olioso all'interno ha molti ingredienti idratanti poi miscelato con il vico con l'acqua diventa schiuma intanto mi sono sporcata le mani devo pulirmene ma mi piace perché si miscela molto bene fa schiuma a sufficienza quindi avete quella parvenza di lavare il viso io mi sento il viso pulito l'unico difetto che ha non so se è una sensazione mia io chiaramente lo passo anche vicino agli occhi insomma cerco di pulire anche quei residui di trucco che mi sono rimasti sugli occhi tipo il mascara quindi lo passo anche vicino agli occhi e praticamente mi vedo la vista appannata secondo me perché all'interno ha delle sostanze oliose che mi vanno a dare quella quella sensazione di vista appannata ma per qualche secondo e questo mi fa pensare che all'interno abbia tanti oli io ho degli oli all'interno io come sapete di Inci non sono molto molto esperta però infatti come primo ingrediente c'è un olio poi c'è la glicerina e tutto il resto che non so insomma più di tanto dirvi che cosa sia sapete già che questi prodotti di Ren sono vegani quindi ancora all'interno tutti ingredienti di origine naturale e mi piace mi piace mi piace con la consistenza per per come si applica per la formulazione che la trovo la trovo molto molto valida e io appunto mi ci sto trovando molto molto bene quindi molto molto apprezzato altro prodotto di skin care è un contorno occhi questo qui di Pixi lui è un contorno occhi che penso di avervi già mostrato quando ho spacchettato qualche pacco che mi è arrivato di qualche ordine ed è questo contorno occhi al retinolo chiaramente il retinolo è un ingrediente abbastanza aggressivo soprattutto consigliato per chi ha grughe in evidenza per donne di una certa età però questo qui in particolare nonostante abbia il retinolo è consigliato anche come utilizzo quotidiano quindi all'interno non ha chissà quanta quantità di retinolo mi piace tantissimo sia perché lo trovo molto idratante ma vedo proprio che oltre a schiarirmi anche un po' il contorno occhi quando lo applico mi piace anche molto perché mi vedo il contorno occhi anche al tatto molto elastico liscio molto molto liscio chiaro che il retinolo va proprio ad eliminare gli strati superficiali della pelle questo non vuol dire chiaramente per il contorno occhi non consiglio di utilizzare il retinolo che io di retinolo perché andate anche a sensibilizzare questa zona anche perché la pelle della zona del contorno occhi è molto sottile però questo prodotto in particolare io nonostante sia appunto con all'interno del retinolo mi piace perché non lo trovo così aggressivo anzi noto dei miglioramenti nel mio contorno occhi noto oggi tra l'altro sono praticamente struccata ho messo un velo di terra e le sopracciglia e il mascara ma vedo una riduzione ad occhio proprio nudo delle linee di espressione delle zampe di gallina penso sia anche questo prodotto qui anche perché il retinolo va proprio a riempire le rughe ad eliminare gli strati superficiali della pelle quindi lo trovo davvero molto molto valido io sulla skin care di pixi non ci avevo puntato chissà quanto non lo so tendo forse ad immaginarlo un brand non lo so di skin care non proprio valido in realtà questo prodotto qui in realtà non ho provato nulla se non questo prodotto il mio primo prodotto di pixi ma devo dire che lo promuovo a piedi voti molto molto valido lui si chiama retinol eye cream e questo insomma ci siamo esposti al sole chiaramente ci siamo anche protette io come sempre promuovo la mia crema preferita la mia protezione preferita di sempre ed è l'ail outer mail di aven la protezione venti inizialmente io tendo ad applicare una 30 quando però prendo un po' di colore in più anche se io voglio stare al sole mi abbroggio anche sotto l'ombrellone utilizzo la 20 quando sono un po' più bronzata è la mia crema di sempre è anche terminata lei di sempre è lei la crema protettiva di aven soprattutto l'aven ti utilizzo e l'adoro sia perché si spalma facilmente la profumazione è buonissima ma perché noto almeno prima che l'utilizzassi non avevo questo risultato post estate noto che la bronzatura mi dura di più non non si crea subito quella pelle morta magari a settembre anche sotto la doccia tendiamo a perdere la pelle morta ad avere quelle chiazze più chiare terribile invece da quando utilizzo questa crema non ho assolutamente quella quei problemi alla pelle alla bronzatura anzi si schiarisce pian piano e non va via quella pelle morta che poi è terribile anche perché avete quelle chiazze che sembriamo anche un po' malate invece con lei noto proprio una durata più lunga della bronzatura più bella quindi preferita da sempre la mia protezione di aven immancabile utilizzo anche altre protezioni la 30 la 50 ho utilizzato anche quella di di ren la 30 che non mi è piaciuta tantissimo però lei resta sempre la mia preferita quindi probabilmente ad ogni fine estate ve la potrei propinare come prodotti make up chiaramente mi sono portata dietro come sempre i miei classici beauty strapieni ma di make up ho utilizzato davvero poco ho utilizzato ho fatto molta più skin care cioè o meglio ho utilizzato molto di più i prodotti di skin care piuttosto che i prodotti di make up ho utilizzato 3-4 prodotti in croce però bene o male ho intenzione di parlarvi anche di quelli che ho utilizzato meno ma che mi sono piaciuti uno dei prodotti che ho utilizzato di più è questo prodotto qui di Dior ed è il fondotinta di Dior infatti come vedete la colorazione è quella più scura infatti ho preso la colorazione medium mi va ancora bene adesso come colorazione perché sono ancora abbronzata da vicino forse si percepisce di più la colorazione e chiaramente potrei utilizzarla soltanto d'estate mi è piaciuta tantissimo va miscelata prima dell'utilizzo l'erogatore è questo qui non proprio comodo perché non ha il push però insomma si eroga abbastanza bene mi è piaciuta tanto perché perché trovo che abbia una stesura cioè sia molto leggera sia quasi acquosa una stesura facilissima e nello stesso tempo nonostante sembri acquosa e quindi quasi dicogliosa non voglio dire dicogliosa ma molto acquosa io all'inizio pensavo che dovesse lucidare subito quindi di dover stare lì dietro a tamponare con le cifre invece no si asciuga immediatamente non avete quell'effetto dopo qualche ora di lucido sul viso anzi restava abbastanza fermo lucido fino a c'è il punto giusto da dona con l'effetto non opaco ma glow bello non quindi olioso che è terribile leggerissimo quindi per l'estate è perfetto quindi a volte neanche mi dimenticavo anche di aver applicato il fondotinta per dirvi uniforma benissimo l'incarnato non è stracoprente però magari qualche imperfezione qualche brufoletto qualche puntino o qualche discromia la copre quindi io per l'estate quest'estate ho fatto bene ad acquistare e a utilizzare questo fondotinta perché mi è piaciuto tantissimo ero scettica all'inizio però come sempre Dior non si smentisce mai quindi probabilmente anche l'estate prossima potrò ancora utilizzarlo anche perché è a 12 mesi di PAO quindi ho iniziato ad utilizzarlo ad agosto quindi dovrei riuscire ad utilizzarlo ancora anche l'anno prossimo l'ho utilizzato tanto non si vede così però l'ho utilizzato tanto ma ce n'è ancora chiaramente a breve non potrò più utilizzarlo perché la colorazione non va bene vorrei tanto utilizzarlo perché la formulazione mi piace tanto ma effettivamente non posso più utilizzarlo quando non potrò più utilizzarlo quando mi schiarirò di più quindi ne ho ancora poche replicazioni da fare secondo me però strapromosso sempre per il viso questo è un prodotto che vi ho mostrato tante altre volte però anche perché è enorme e non termina mai è la cipria di Chanel è una cipria che io utilizzo puntualmente ogni estate perché ha una colorazione più scura io a volte la utilizzo anche come fondotinta non solo come cipria quindi magari quando voglio coprire qualcosa in più la utilizzo come cipria quando utilizzo il fondotinta però mi è capitato anche di utilizzarla anche solo come cipria quindi lei soltanto sopracciglia mascara e tutto il resto d'inverno non la utilizzo molto perché è più scura della mia carnagione naturale quindi invernale ma d'estate puntualmente la utilizzo ce l'ho non so da quanto nonostante il pao sia di 18 mesi penso che questo sia il secondo anno non lo ricordo se il secondo o il terzo anno ma mi piace tantissimo si chiama l'appo di Universal Libre quindi io ce l'ho da tre anni l'avevo pagata 50 euro non ricordo però ce l'ho ancora posso ancora applicarla forse tutta l'estate prossima e anche adesso ma straconsigliata uniforma un sacco è leggera è impalpabile copre copre abbastanza anche come fondotinta allo stesso tempo non vi lucidate perché fa anche da cipria è davvero una delle ciprie mie preferite soprattutto se volete utilizzarla come cipria o come fondotinta perché è molto anche coprente quindi bellissimo un'altra cipria che mi sento dimensionare che non volevo lasciare in disparte è la cipria di Nabla ed è la close up nella colorazione light mi è piaciuta tantissimo anche lei la sto utilizzando l'ho utilizzata prevalentemente da non ricordo fine luglio tutto agosto l'ho portata con me perché volevo evitare di portare le altre ciprie in polvere libera se non quella di Chanel quindi ho portato questa qui anche perché è più comoda la portare in beauty più piccola meno ingombrante meno spaziosa cioè o meglio occupa meno spazio in effetti mi è piaciuta tanto ha un solo difetto è molto polverosa cioè quando spolverate il pennello va via tanto prodotto questa cosa è diciamo questo è l'unico difetto che ha per il resto mi piace tanto la polvere innanzitutto è molto molto sottile leviga da morire leviga tantissimo opacizza molto nel senso che se avete soprattutto l'estate vi capita un attimino di essere un po' più lucido magari in questa zona lei opacizza opacizza non dico che diventate dei gessi però opacizza e leviga tantissimo mi è piaciuta tanto proprio per la formulazione molto leggera quindi anche l'estate va benissimo quindi io mi sento assolutamente di consigliarla avevo sentito parlare stra bene di questa cipria e quindi mi sono anch'io convinta in effetti devo dire che è una di quelle che promuovo anch'io è una delle cipre migliori che ho provato fino ad ora sicuramente ne prenderò altre di queste perché essendo molto polverosa sicuramente non mi durerà tantissimo infatti il solco già lo vedo dalla telecamera non si percepisce ma io lo vedo motivo per cui insomma mi dispiace ma sicuramente la riacquisterò e ve la consiglio anche lei per quanto riguarda invece il correttore un correttore che ho utilizzato è questo qui di Clinique quello che vi ho mostrato in un ordine fatto negli ultimi periodi di Sephora anche se questo qui in realtà l'avevo preso da un'altra profumeria ed è il Behind Perfecting Super Concealer ed è lui ve l'avevo appunto mostrato l'ho acquistato prevalentemente per utilizzarlo quest'estate perché volevo un correttore più che coprente idratante allo stesso tempo coprente ma soprattutto che fosse il meno secco possibile lui mi è piaciuto tanto allora non è uno di quei correttori che copre tantissimo cioè se fate più di uno strato è molto coprente con un solo strato andate ad illuminare soprattutto ed è molto molto idratante è chiaro che come vi ho sempre detto e sempre vi dico dipende anche dal tipo di contorno occhi dalla skin care che fate quello è chiaro però anche lo vedete si vede anche la differenza tra un correttore ed un altro uno più idratante e uno meno idratante nonostante sia molto idratante non mi andava assolutamente nelle pieghe quindi io mi sento assolutamente di consigliarlo anche se promette una coprenza totale ripeto secondo me dipende da quanto lo stratificate se ci fate un solo velo copre magari però gli occhiali un po' più scure non le va a coprire quindi ha bisogno di un secondo strato chiaro che con la bronzatura magari neanche si vede più di tanto io l'ho preso di questa colorazione che è un po' più chiara della mia quindi andava chiaramente di illuminare il contorno occhi e mi bastava quindi è un correttore che mi è piaciuto tanto che sto continuando ad utilizzare e che vi consiglio se vi piace un correttore illuminante e anche idratante vi garantisco che copre anche abbastanza lo preferisco nettamente magari a un correttore molto coprente ma che nello stesso tempo vada nelle pieghette che sia magari troppo come formula troppo come dire spessa quindi si crea proprio lo strato intorno al contorno occhio preferisco questa tipologia qui di correttore chiaro che d'inverno magari tendo a preferire dei correttori un po' più coprenti però preferisco più che altro luminosità e che non vada nelle pieghette in primis preferito per quanto riguarda invece le polveri viso non mi sono portata dietro la palette di Smashbox perché sapevo che se avessi portato lei avrei utilizzato lei quindi mi sono portata dietro questa qui di Catrice che trovo molto molto valida che vi ho anche mostrato sia in un video in cui mi sono truccata quando l'ho acquistata e trovo sia davvero molto molto valida un po' sporchina sia perché all'interno ha diversi due illuminanti due blush le terre la terra diciamo che non è proprio fredda ah tra l'altro piccola parentesi se ho fatto la consulenza di ermocromia di cui vorrei anche parlarvene vorrei dirvi un po' le mie impressioni sicuramente farò un video su quell'esperienza lì su quella che è stata che per me è stata una scoperta la mia stagione quindi voglio anche parlarvene in ogni caso l'unica pecca è magari che all'interno non abbia una terra fredda ma tutto sommato magari con la bronzatura mi andava anche bene magari in inverno un po' meno in ogni caso stra utilizzata mi è piaciuta davvero tanto i blush poi mi è piaciuto tantissimo ho utilizzato tanto questo qui ho pescato con molto illuminante anche lui non l'ho disegnato per niente gli illuminanti devo dire la verità li ho utilizzati un po' meno perché in realtà non è che abbia fatto chissà che cosa quest'estate zero vita mondana zero discoteche quindi mi sono truccata molto basic mi bastava un fondotinta un blush insomma il minimo indispensabile quindi illuminante poco io però più che tendenzialmente preferisco l'illuminante un po' più più che dorato molto più champagne tendente più all'argento diciamo così quello non so se avete presente l'illuminante presente nella palette di smashbox ecco quello illuminante per me è perfetto quello se non ricordo male è tipo anche rosa perlato insomma i dorati non li utilizzo tantissimo però comunque questi qui li ho utilizzati davvero una scoperta non pensavo ero convinta fino all'ultimo di portarmi quella però se non mi porto dietro questa non lo utilizzerò mai infatti è fatto bene altro prodotto per il viso che davvero mi piace tantissimo questo blush nonostante sia un blush che sicuramente non troverete perché è un'edizione limitata e anche per il costo è questo blush in edizione limitata di essence della collezione di cenerentola ed è vi garantisco uno dei miei blush preferiti in assoluto perché è un blush oltre che il colore è molto molto bello questo rosa baby questo rosa forse non si vede benissimo dalla telecamera non si percepisce forse si percepisce più così mi piace tanto perché mi dura un sacco oltre che la polvere è sottilissima magari chiaramente sapendo conoscendo il prezzo un paio d'euro non pretendi neanche chissà che cosa da questa tipologia di prodotto in realtà no è uno dei blush migliori che ho perché mi dura tantissimo il colore è molto bello d'estate è molto bello ma anche d'inverno preferisco preferibilmente l'utilizzo d'estate infatti l'ho tirato fuori quest'estate continuo ad utilizzarlo ma mi l'ho dimenticata di quanto fosse valido questo blush ha una durata molto molto alta anche molto più alta di altri blush che io possiedo che magari costano anche 20 euro per dirvi lui è stra stra valido ha una durata secondo me che pochi blush hanno mi dispiace che sia in edizione limitata che probabilmente non potete reperirlo però non potevano menzionarlo perché è stato uno dei più prodotti che ho utilizzato tanto quest'estate un altro blush che mi sono portata dietro e che ho utilizzato tanto e che ho apprezzato è questo qui di Belapier che ho trovato all'interno di una box dovrebbe essere la box di agosto ed è questo colore che non so descrivervi sinceramente non so proprio è un pescato marroncino cioè neanche tanto pescato che secondo me con la bronzatura sta molto bene mi piace perché ho all'interno anche delle micro perlescenze quindi è molto luminoso la formulazione è molto molto leggera quindi è molto sottile la polvere mi è piaciuta tanto mi è piaciuta anche lei la colorazione con la bronzatura mi è piaciuta perché non è un rosa tipo un marroncino un marrone pescato un marsala diciamo così se proprio vogliamo dargli un nome a questo colore è bello 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 mi è piaciuto anche perché è un colore che non ho infatti si chiama amaretto la colorazione devo dire che mi è piaciuto quindi sono contenta di aver trovato questo bel blush all'interno della box per quanto riguarda invece il trucco occhi non ho fatto molti trucchi occhi ho utilizzato due palette una di cui vi ho già parlato che è quella di Too Faced piccolina che è la mia preferita al momento ma ho utilizzato anche questa qui di Bella Pierre ribadisco mi sarei truccata 4-5 volte però ho utilizzato anche questi colori qui questa palette qui ho appena scoperto di essere una stagione fredda quindi tutti questi colori caldi in realtà per me non andrebbero assolutamente bene nonostante magari io adoro il bronzo adoro magari soprattutto sugli occhi adoro il bronzo il dorato quei colori caldi magari quindi mi piace tantissimo questo colore mi piace tanto questo qui che non so se si riesce a percepire da vicino eccoli sì quindi tutti questi colori molto caldi e molto luminosi che per me non vanno bene però io li ho utilizzati lo stesso ho utilizzato soprattutto questo qui questo bronzo che mi piace tanto questo anche come illuminante l'ho utilizzato questo dorato champagne però questa palette l'ho trovata molto valida sia per la pigmentazione degli ombretti questo ombretto ribadisco è il più bello e davvero vi faccio uno swatch così capite è un bronzo cioè se siete abbronzate questo colore è molto bello io non vorrei che venisse fuori un arancio che in realtà non è però è davvero molto molto bello stupendo peccato io peccato non siano i miei colori ma insomma fa niente se li facciamo andare bene lo stesso soprattutto se siamo abbronzate d'inverno non può non magari è sconsigliato per me utilizzare i colori caldi però d'estate facciamo uno strappo alla regola per quanto riguarda invece le labbra non ho utilizzato rossetti o meglio poco pochissimo forse il Mer di MAC però prevalentemente quello che purtroppo ho terminato è il mio amatissimo Lip Glow di Dior ed è il balsamo di Dior che però mi è terminato ahimè infatti ne vorrei comprare un altro è fantastico cioè sia perché vi vi rimpolpa le labbra vi dona quell'effetto che ho trovato anche adesso rimpolpa scusate l'herpes tra l'altro vi rimpolpa le labbra colora leggermente un po' sul rosa le labbra idrata le idrata allo stesso tempo quindi per me la sera magari ma anche di giorno anche al mare una passata di questo lucido mi sentivo a posto anche perché l'effetto è molto bello ho riscoperto molto anche l'effetto un po' più lucido ho riscoperto anche un po' i balsami ecco questo più che un lucido è un balsamo e l'ho stra 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 usato bellissimo ne comprerò sicuramente un altro per questo inverno e nulla questi erano tutti i miei prodotti più utilizzati dell'ultimo periodo dell'estate come avete visto insomma mi sono truccata ben o male poco molto basic però ci chiedevo a farvi vedere quello che più mi è piaciuto e che più ho utilizzato niente io spero che questo video come sempre vi abbia tenuto compagnia e che vi sia piaciuto ditemi quello che pensate se anche voi avete utilizzato i miei stessi prodotti se li utilizzate se avete intenzione di provarli fatemi sapere mi raccomando se vi va mettetevi un like iscrivetevi al canale e nulla io come sempre vi mando un bacio e ci vediamo presto ciao